sono 16 e 40 del 25 febbraio 2024 mi trovo al parco san leonardo dopo circa 90 minuti di escursione torno qui al punto di partenza dove ho parcheggiato la mia beccia perché ho lasciato la bicicletta provengo a luogo di marcia che sono circa 4 km da qui sopra la ponte san leonardo sarà circa un chilometro la ponte san leonardo santa dal monumento dei caduti degli alpini di trasacco e poi sono sceso qui adesso non mi rimane altro che tornare a casa perché il sole è tramontato tiravendo e la temperatura è scesa di circa 5 6 gradi quindi considerando la mia età considerando un po la frescura è opportuno tornare a casa anche perché sono classe 1955 mi sento giovane ma quasi giovane nella verità comincia essere anziano un po' Grazie. Grazie.